ok 3 2 1 go ciao ragazzi sono sempre il boss di monopattini sto creando le staffe per le pinze dei freni sempre del xiaomi big 6000 watt e niente iscrivetevi sempre i seguenti canali che ne vedrete sempre delle belle e mondo elettrico italia di facebook mi raccomando ok nei commenti fatemi sapere tutto quello che ne pensate ciao ragazzi se avete bisogno sapete dove trovarmi ciao guardiamo insieme ovviamente ancora lungo il lavoro è ok allora sto andando a creare le staffe che con questo semplice tubo ripeto quello che sto facendo io è tutto rigorosamente a mano tutto a mano ok fare le cose con le apparecchiature elettroniche sono capaci tutte che hai tutto a qua sto andando a creare le staffe per le pinze e poi devo saldare spero di non annoiarmi non ăn jackal Temperpina 08 00ISH 005 00 nuestra ok intanto si procede con l'altro foro ovviamente è un lavoro molto lungo questo monofattino è una bestia e non è che si può creare in due giorni quindi il lavoro è tanto comunque la batteria qua è arrivata a capolinea non si lavora più quindi vediamo un po la storia la batteria ce l'avevo sotto gli occhi ma non la vedevo ok e qua è anche fatto ci alloggia la vita è perfetta ok adesso la pinza come potete vedere una staffa già saldata vedete anche ci vuole fare l'altra staffa così e poi si chiede la cosa allora mi chiamocela vite una bella vitina se no qua non si può non si può fare un cavolo se trova la vite non ci fate caso il casino che c'è no quando io creo creo quindi poi si mette la torse tutto eccola qua la vitina così ma questa si blocca addirittura e siamo a cavallo allora allora è un'operazione che non è proprio facile una parola è una parola bella tosta bella tosta bella tosta bella tosta quindi andrò a piegare così ok ok il vino il panellino il panellino il panellino quando si crea si crea ragazzi ok chi ha l'età tipo andiamo a smerigliare tutto grazie a tutti 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 ciao ciao grazie a tutti 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 ok grazie a tutti grazie a tutti ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti faccio grazie a tutti 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 ok ok grazie a tutti 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 grazie a tutti